Controllare i flussi di traffico, monitorare il territorio ed aumentare così la sicurezza. È con questi obiettivi che il Comune di Lucignano ha inaugurato il nuovo sistema integrato di controllo accessi con l'installazione di due telecamere ad alta tecnologia. In questo momento non ci sono sanzioni, non è il nostro obiettivo, vogliamo soltanto dare veramente più sicurezza ai cittadini con la possibilità per le nostre forze dell'ordine di controllare chi passa dal nostro territorio. Il progetto per un investimento di 14.000 euro è finanziato al 70% dalla regione toscana grazie ad un bando specifico. È stato messo a punto da Estracom, la società del gruppo Estra che si occupa di telecomunicazioni. Queste sono telecamere che principalmente rilevano le targhe, lettura delle targhe. Quindi è un occhio umano messo all'interno di un apparato elettronico che rileva le immagini, le porta in un server centrale e dal server centrale poi si fanno tutte le indagini che si vogliono fare. I due apparecchi sono installati, uno in prossimità della Rotonda, in località Santa Maria, sulla strada provinciale 28, l'altro sulla provinciale 19, in prossimità dell'area sosta per camper. Faremo di Lucignano la porta d'accesso da Rezzo, diciamo una cittadina assolutamente controllata e monitorata nell'interesse del proprio territorio ma anche nell'interesse di tutta la provincia. Qui siamo in uno snodo nevralgico che sarà di grande supporto alle forze dell'ordine. Quindi siamo molto soddisfatti di rappresentarci come molti utili capaci di offrire tanti servizi alle nostre amministrazioni socie.